Ciao, video-lezione sulle stanze per la giostra di Angelo Poliziano. Abbiamo già ceritato questa opera nella lezione introduttiva su Poliziano, a cui ti rimando, ma oggi entriamo nel dettaglio. Intorno al 1475 Poliziano progetta un poemetto mitologico in ottave, che viene intitolato, questo è il titolo completo, Stanze cominciate per la giostra del magnifico Giuliano Di Piero, cioè figlio di Piero De Medici. Ovviamente dedicate a Giuliano, il fratello minore di Lorenzo, che proprio in quell'anno, nel 1675, aveva vinto un torneo di armi, questo sul significato vero di giostra. Ecco, in questo senso forse conviene un po' approfondire, perché noi abbiamo l'idea della giostra, quella dei bambini, che appunto troviamo spesso nei paesini o in qualche piazza delle nostre città, in realtà non ha nulla a che vedere con questo. Parliamo di, questa è un'immagine, penso, della giostra di Foligno, sono delle gare paramilitari in cui dei cavalieri si contendono una gara, nel senso che in questo caso specifico il cavaliere deve riuscire a cogliere l'anello che si intravede appeso al braccio di questo manichino con la sua lancia. Capisci che è un'impresa non proprio facilissima, dimostra abilità guerriera, quell'abilità guerriera che deve essere presente nel campo di battaglia, ne vale la vittoria e la vita, e che viene in qualche modo mimata in momenti di pace, e che ovviamente tende a celebrare la destrezza del cavaliere in questione. Questa forse è la più famosa, la Quintana di Arezzo, che appunto più o meno ha la dinamica la stessa, questa volta non c'è un anello, c'è un manichino che gira su se stesso, come vedi appunto sulla destra c'è una specie di bersaglio che va colpito, in questo caso il cavaliere è stato proprio perché l'ha colpito nel centro, in quel pallino rosso, però appunto colpendolo questo pupazzo gira e alle spalle del cavaliere si agitano tre palle, non so molto bene la tecnica, ma insomma sono tre palle forse di piombo che possono, se lui va particolarmente piano, possono colpirlo alle spalle, e ovviamente questi sono punti di penalità, non entro nelle dinamiche della gara odierna che non conosco minimamente, ma ecco questo doveva essere il tipo di giostra, di torneo cavalleresco in cui si era cimentato e che aveva vinto Giuliano De Medici. Qual è il problema? Che nel 78 ti ricorderai che Giuliano muore, viene ucciso nella congiura dei pazzi e quindi Poliziano smette di comporre quest'opera che stava ormai giungendo al suo terzo, forse definitivo libro. La trama non è originalissima, e anche questo si inserisce appieno nel contesto dell'umanesimo fiorentino, non è originalissimo perché riprende in tutto e per tutto il mito greco di Ippolito, che diventa poi oggetto di diverse tragedie greche. Cioè, Iulio o Iulo, Giuliano De Medici evidentemente, è un giovane nobile che disdegna l'amore per dedicarsi solo alla caccia. E allora Cupido, il dio amore, proprio per questo motivo è arrabbiato, è irritato, e attira Iulio in un tranello, cioè durante una battuta di caccia gli fa apparire una cerva bianca. E lui ovviamente Iulio, essendo una preda piuttosto ambita, la insegue, si allontana dal gruppo dei suoi amici, e finché l'animale, arrivato in una radura, si trasforma in una bellissima ninfa, che si presenta, ovviamente parla, e si presenta col nome di Simonetta, che è Simonetta Cattaneo. Allora, qualche credico contemporanea vede in questo ritratto di giovane donna, di esempio di Botticelli, vede proprio il profilo, la siluetta di Simonetta Cattaneo. Non abbiamo ovviamente la certezza, una donna fra le più belle differenze, di cui si era innamorato Giuliano, forse anche lo stesso Lorenzo. Questo è il primo tratto che dopo analizzeremo un po' nel dettaglio. Giulio quindi viene in quel momento colpito dalla freccia di amore, si innamora perdutamente della fanciulla, quindi dimentica completamente la caccia, è l'unico suo desiderio esistenziale, possiamo per così dire, è rivedere questa donna, che però ovviamente si allontana, dicendo che lei ogni tanto viene in queste zone, ma non è originaria di qui, e non torna, anzi invita proprio Giulio a tornare dai suoi compagni di caccia. Nel secondo libro, Amore di occupito, rivela alla Madre Venere quello che è stato il suo grande atto, la sua grande impresa, è un personaggio che non conosceva, tra virgolette, l'amore, e che ora invece ama più di ogni altra cosa. Descrive quella che è la nobiltà di Giulio, e quella di suo fratello, guarda un po' Lorenzo, quindi diventa di fatto un momento encomiastico della intera famiglia dei medici. Simonetta appare a Giulio in un sogno che è proprio venere a suscitare, e in questo sogno Simonetta suggerisce a Giulio che per conquistare il proprio cuore deve compiere delle imprese gloriose, non soltanto a livello umanitario, ma anche a livello artistico, poetico, in particolar modo. Ma qua purtroppo il poema si interrompe, per cui evidentemente ci sarebbe stato questo terzo libro in cui si sarebbero narrate le gesta gloriose di Giulio o Giulio. Vediamo cosa, alcune leggiamo, analizziamo alcune delle ottave iniziali. Poliziano descrive questo Giulio come un uomo veramente forte, avulso da sentimenti d'amore, tutto dedito alla caccia, ed è proprio questo il momento in cui il Dio pianifica il proprio inganno. Ah, quanto ammirare il Giulio, è feracosa, ecco, è veramente incredibile, impressionante guardare Giulio mentre è a caccia. Rompe il fitto della foresta, come sempre sulla sinistra trovi il testo e sulla destra la parafasi, rompe il fitto della foresta dove gli alberi sono più densi per cercare di scovare una feroce bestia nascosta nel bosco. Amoramo Verde, ecco la descrizione anche fisica è interessante perché Amoramo Verde intorno al capo avvolto con la chioma ruffata e polverosa e di onesto, quindi nobile, frutto di onesto, attività, sudor bagnato il volto. Ivi è proprio quello, Ivi in quel luogo, quello è il luogo in cui Amore prese consiglio, cioè prese la decisione di attuare la sua fera, feroce vendetta, perché ovviamente aspettava tempo e luogo opportuno. E con la sua mano leggera compose, mi fermo su questo verbo, cioè creò, creò dal nulla, creò una immagine di una cerva altera e bella. È una creazione ex nilo, dal nulla, per cui Dio Amore evidentemente ha delle capacità che nella mitologia forse conosciamo un po' di meno, però creò questa immagine di una bella fiera e bella, cerva. La cerva ha una fronte alta, corna ramificata, il suo amante è candido, diciamo che è tutto bianco, graziosa e snella. E quando la cerva in mezzo agli altri animali spaventabili si mostrò al giovane cacciatore egli, pieno di gioia, sprono il cavallo per inseguirla. Buon cacciatore quale è? Giulio va all'inseguimento, quindi un colpo di tallone sul fianco del cavallo e giù nel fitto della foresta. Perché, ecco, questa cerva è un animale che ovviamente funge da esca, abbiamo detto all'inizio per il Dio Amore, ed è proprio lì proprio in quel momento quando cadrà nell'inganno che potrà lanciare la freccia. Ma è evidente che in questo momento è una cerva che il cacciatore deve inseguire ovunque. Essa si diriga, per cui da buon cacciatore va avanti. La bella cerva gioca un po' con, giustamente, con il cacciatore gioca, perché evidentemente non è in ballo la sua vita, ma c'è il Dio Amore che gestisce tutto quanto l'inganno, per cui un momento rallenta, fa finta di essere stanca, si lascia avvicinare da Giulio o Giulio o Giuliano che stia, sembra che stia per raggiungerla, toccarla, la cerva riprende la velocità, quindi si allontana in qualche modo lo allontana dagli altri. Più Giulio insegue in vano l'immagine incorporea, la vana effigie, ovviamente tutto questo poi anticipa in qualche modo quello che saranno i giochi visivi dell'arte del 600, tanto più di seguirla in vano si accende, più cresce lui il desiderio di catturarla. continua a seguire le tracce ormai stanche della cerva, sembra quasi raggiungere ma non riesce mai a prenderla. È come Tantalo, ecco qua un'altra volta, ancora una volta ti rimando a quella che è l'avvitoazione sul classicismo di Poliziano. Il mito interviene, si inserisce per descrivere questioni che con il mito non hanno nulla a che fare. Viene descritto qui il mito di Tantalo che nelle acque infernali dello stige è sempre vicino al bel giardino ma ogni volta che tenta di bere l'acqua o ferrare il frutto essi scompaiono sfuggendogli all'improvviso. Quindi è un personaggio mitologico che Poliziano e i suoi lettori conoscono che serve ad illustrare meglio la situazione di Julio. Julio che sta inseguendo la cerva come Tantalo insegue l'acqua o i frotti. Julio ormai si era allontanato dai suoi compagni di caccia inseguendo la preda non riesce a guadagnare terreno sente anche il suo cavallo ormai stanco eppure seguendo quella sua vana speranza interessante come insiste questa vana effigie vana speranza è tutto un mondo ovviamente fasullo in questo senso giunse giunse in un prato verde pieno di fiori ecco lì giunse in una radura e lì sotto un vedo canto apparve lieta una ninfa e scomparve la bestia in qualche modo avviene una metamorfosi senza tirare in mezzo o video ma insomma è una metamorfosi è proprio il momento del devolmo della rivelazione la trappola ardita dal dio amore finalmente diventa realtà la finta cerva diventa una vera ninfa ed è appunto un fa parte ancora una volta ti richiamo l'arte del seicento l'immaginazione la finzione dell'arte del seicento ha perso di vista la bestia e quindi ovviamente adesso ha occhi solo per la ninfa e ci dice nell'ottava che non ho voluto mettere che una nuova dolcezza gli scende nel cuore nuova nel senso di straordinare mai sentita mai provata prima infatti era abbiamo detto estraneo questo sentimento al suo cuore ma ora è completamente avvinto da questo sentimento infatti accoglie tra virgolette in sé julio questa forza vivificante dell'amore ai qual divenne ai come al giovinetto corse il gran fuoco in tutte le midolle comincia una sorta di sintomatologia no del sentimento d'amore che diventa padrone di io lo stesso che tremito gli scosse il corno il petto qua è tutta l'ottava ti ho voluto mettere in rilievo alcune delle frasi più importanti perché sono quelle che avendo studiato l'anno scorso lo stil novo sono quelle che più ti suonano ti rimando alla video lezione generale sulla concezione d'amore dello stilnovismo ma sono più o meno questi sintomi sintomi che poi neanche sono originali dello stil novo l'abbiamo visti e ti rimando al carme 51 di catullo la sintomatologia d'amore è più o meno ricorrente nella lirica d'amore di tutti i secoli che tre mori scosse il cuore in petto era tutto bagnato di un sudore freddo e invaghitosi del dolce aspetto della ninfa non può più togliere gli occhi di dosso tutto preso dal suo bellissimo splendore il poverino non si accorge che qui c'è il dio amore il meschino parola di origine arabo il meschino il povero ma qua ovviamente è una traduzione traduzione se vuoi dal latino stesso miser miser che troveremo in altri testi di poliziano miser è proprio colui che sta soffrendo d'amore miser catulle desina sineptire ti rimando appunto come già detto alla video lezione su catullo non si accorge che amore lì dentro dentro è una metatesi per dentro cioè dentro questa ninfa dentro lo sguardo di questa ninfa è armato per solturbare la sua lunga quiete cioè questo questo status di cacciatore è ormai buttato nel cestino il dio amore ha raggiunto quello che è il suo obiettivo di fare innamorare il dio non si accorge a che nodo è già legato non conosce le sue piaghe ancora segrete piaghe ovviamente fa ripeto dalle ferite d'amore di piacere di disire tutto è invescato il termine è forte perché richiama anche in questo caso la lirica medievale e rimanda la famosa opera di Federico II sul cacciare con i falchi il vischio un termine già anche dantesco il vischio veniva utilizzato come strumento di caccia tutto questo elemento gelatinoso colloso che deriva dalle bacche del vischio veniva appunto messo sulle foglie e poi spinti non so bene come gli uccelli verso queste foglie andavano appunto a rimanere incollati diremo noi ma appunto a quel tempo si diceva invischiati e lo diciamo anche noi in senso metaforico e così il cacciatore preso è alla rete mi piace questa espressione perché è un'immagine non originale il cacciatore da preda da cacciatore diventa preda ma viene in qualche modo impreziosito da questo che nel seicento viene chiamato concettismo il cacciatore è cacciato e tutti i giochi di parole di cui Marino Giovanni Battista Marino ti rimanda qualche poesia che c'è in questo canale youtube Marino diventa famoso anche per questo motivo le braccia fra se l'oda il viso il crino e in lei discerne un non so che appunto sembra essere già in un'area decadente un genese qua di cui parleranno gli autori francesi della fine dell'ottocento e in lei distingue qualche cosa di divino e proprio su questo si ferma perché questa apparizione della ninfa è immersa in un'atmosfera di miracolo di sovrannaturale sembra appunto già di suo collocata in una dimensione che è oltre umana e ovviamente essendo una creatura o sembrando una creatura divina è guardata dall'uomo da Giulio con un rapimento estatico e questa estasi in qualche modo coinvolge tutta la natura intorno a sé candida ella e candida della veste ma pur di rosa e fior dipinta ed erba lo inanellato crindle laurea testa scende in la fronte umilmente superba ecco qui ti ho voluto antologizzare queste due ottave perché sono proprio la descrizione di una divinità sono la descrizione di venere che di venero della primavera di botticelli no ecco queste qua sono la compartecipazione della natura attorno ride lì attorno tutta la foresta attorno a lei tutto il bosco sorride la solita immagine metaforica e per quanto possibile allevia le sue di iulio pene disacerba verbo petrarchesco non a caso e ancora poi nell'ottava 44 laier l'area intorno si fa tutta amena bella ovunque gira gli occhi pieni d'amore sempre lei l'area anche l'area diventa in qualche modo preziosa ogni aura ogni soffio di vento tace quando lei parla e canta ogni augelletto in suo latino come il proprio verso ogni uccelletto quindi la natura partecipa di questa epifania una vera e propria epifania di una divinità ancora una volta rileviamo che non è del tutto originale poliziano la pelle è candida come anche i denti i capelli sono biondi lo sguardo è luminoso il volto è lieto non ci sono tutte le implicazioni filosofiche che la donna stilnovista portava con sé qui è una bella donna un essere umano che seppur appunto frutto della azione del di amore non ha nulla di soprannaturale né tende a qualcosa di soprannaturale non è scala al fattore come la Beatrice Tantesca e tutto questo appunto è la descrizione che noi troviamo e continua continua anche nelle ottave successive la descrizione della onestà della gentilezza cioè in generale delle virtù che questa donna vive e anche in quest'ultima frase ovviamente c'è un eco stilnovista non può mirargli il viso alma villana se pria dei suoi fallir dogliano nave cioè un'anima non nobile non può guardarle in viso se prima non prova rimorso dei suoi peccati questo è sicuramente ripreso dagli stilnovisti quando lei parla o ride dolcemente altri tanti cuori amore cattura ferisce o uccide feria e un cide è uno stilema cavalcantiano ma c'è poco da fare qua poliziano non inventa praticamente nulla l'originalità è data da altri fattori quali per esempio come abbiamo visto prima con Tantano l'innesto della dimensione mitologica sembra Talia qua Talia non è appunto la musa della poesia comica ma è in generale così le muse sembra appunto la musa Talia che prende in mano la cetra come anche sembra Minerva della sapienza ma anche della guerra che in mano prende la lancia appunto Atena Minerva viene sempre così raffigurata se l'arco è in mano al fianco la farete a giurar potrai che sia Diana Casta e Diana interessante perché la dea della caccia alla quale Giulio era particolarmente devoto e ancora altre le altre virtù sembrano abitare nel corpo di questa beatissima donna l'ira la superbia la bellità la leggiadria tutte connotate positivamente ovviamente la ninfa è leggermente imporita quindi quando arriva Giulio già sta andandosene via ed ecco lì che un'altra trasformazione avviene già si inviava a qualcosa di dantesco indiarsi eccetera eccetera si è prestato ad allontanarsi e quindi la ninfa lenta lenta lasciando il giovinetto in gran martire ecco qual è la nuova trasformazione che questo giovane che era dedito alla caccia quindi pronto a sporcarsi a uccidere a a tendere agguati a sporcarsi le mani di sangue eccetera diventa invece quello qua completamente imbambolato davanti alla bellezza di questa ninfa e vorrebbe che rimanesse che fuori di lei null'altro ormai talenta un verbo bellissimo che inventa qui poliziano ormai non desidera nient'altro all'infuori di lei ma poiché il misero ecco il pagiativo vedete questo miser no colui che sta soffrendo per amore il misero non poteva sopportare la perdita di questa ragazza tenta di trattenerla con prechiera infatti tremando e tutto ardendo così umilmente cominciò dicendo noi poche ottavere prima abbiamo visto quest'uomo che camminava in mezzo alla foresta con i rami sui mezzi capelli buttandosi nel fitto del bosco cercando di uccidere animali e adesso invece è tutto tremando e tutto ardendo la ninfa si è trasformata ma anche lui si è trasformato e dice o qualche tu sia vergin sovrana o ninfa o dea ma dea sembri certo se dea forse sei tu la mia diana seppur mortal chi tu sia fammi certo che tua sembianza è fuori divisa umana cioè ovviamente sempre senza grandissima regionalità la donna è equiparata in tutto e per tutto ad una divinità la mia dice diana la dea a cui ho dedicato la mia esistenza e quindi quasi nasce una sorta di senso di colpa ma non so che cosa ho fatto io di bello di buono per meritare tanto per meritare di vederti no che qual dal ciel grazie a qualsiasi amica stella che io degno sia di vedere cosa si bella forse c'è stato il volere degli dei una stella favorevole ma ecco non c'è un volere di dio qua c'è una forte nettissima differenza evidentemente con inferno 2 per dirtela no lì Dante si ribella dicendo io non sono né Enea né San Paolo che ci faccio qui in questo viaggio ultra del Reno e Virgilio spiega guarda che qui c'è stata prima Maria poi Santa Lucia poi Beatrice che vogliono per te questo viaggio è un viaggio che tu devi fare perché ci sono tre donne sante che vogliono che tu lo faccia qui non c'è nulla di tutto questo Giulio rimane meravigliato perché è talmente bella la donna che pensa di non meritare ti segnalo tre parentesi il fatto che sono le stesse più o meno le stesse parole che Odisseo rivolge a Nausicaa nel sesto libro dell'Odissea finalmente parla la ninfa rivelando la propria identità e il proprio nome io non so qual tua mente invana auguria cioè non sono quella che tu credi che io sia veramente non sono una dea degna di un altare né di una vittima invece semplicemente presso l'Arno nella vostra etereuria qui evidentemente sta parlando a Giuliano De Medici originario di Firenze sono sto vivendo il mio matrimonio possiamo già immaginare il volto di Giulio come cambia il mio luogo nativo quindi rivela il fatto che è sposata il fatto che è nata a Genova nell'aspra di Guria su una collina sulla costa dove fuori di Iscoi si sente in vano gemere e frenere ha tirato il fiero Nettuno ancora una volta ancora una volta c'è questo inserimento mitologico per in qualche modo aiutare la comprensione poteva anche evitarlo visto che Nettuno sta per mare quindi è la Liguria è circondata dal mare spesso mi diletto in questo luogo qui vengo a soggiornare tutta sola questo è un dolce luogo dove riposano i miei pensieri qui l'erba e i fiori l'aria fresca mi allettano la vieta e ritorno da qui alla mia casa è breve e io Simonetta ecco finalmente riveda il proprio nome mi trattengo qui lieta all'ombra vicino a qualche chiara e fresca acqua qualche chiara e fresca ninfa spesso in compagnia di qualche ninfa e là finalmente da riferimenti extratestuali sappiamo che si tratta di Simonetta Cattano nobiltonna genovese andata in sposa al fiorentino Marco Vespucci che è vista a Firenze fino al giorno della morte piuttosto precoce celebrata da molti artisti e amata da Giuliano sicuramente e forse anche da Lorenzo sua volta sposato che cosa notiamo? in qualche modo questa origine Ligure dovrebbe giustificare la sua bellezza perché? perché è vicina a Venere vicina a dove è nata Venere per questo teatro in fatto rimandiamo sempre alla nascita di Venere e Botticelli visto che ormai tardi Simonetta invita Giulio a raggiungere i suoi compagni di caccia per poi allontanarsi in un trepudio di natura di colori e di eventi che sembrano quasi sovrannaturali poiché il sole sta tramontando da questi alberi scende un'ombra più lunga e ormai la stanca cicala lascia il posto al grillo e il rozzo contadino se ne va dai campi e il fumo sale dai comini e delle case molto ricco per dirci che è arrivata ormai la sera ormai riprenderà la via più breve e tu tornatene lieto con la tua compagnia di calciatori l'esperienza per Simonetta sembra essersi conclusa lì ma sappiamo che questo non può avvenire la storia d'amore è appena cominciata cosa notiamo noi a livello stilistico per chiudere ci sono degli evidenti riferimenti alle bucoliche di Virgilio al verso 2 quando dice e da questi arbor cade maggior l'ombra a noi viene un po' in mente l'avrei studiato e ti rimando alle video lezioni su Virgilio ma io resco e cado un taltis dei monti bosumbre le ombre più grandi scendono dall'alto dei monti come anche il verso 82 82 e 83 sono i due versi che chiudono la prima ecologa delle bucoliche virgiliane Iamsumma Procul da lontano i detti delle cascine fumano che più o meno è lo stesso verso che troviamo già delle alte ville il fumo è sala ecco ma anche ti ricorderai ti rimando al canto via l'anese al canto ventesiesimo di Dante dell'inferno dantesco come la mosca c'è della zanzara sempre per indicare il sopraggiungere della sera perché sono stato così analitico nel citarti le fonti ma perché fa riferimento a questo rifarsi di Poliziano a fonti le più varie le più varie le più antiche passiamo appunto da Virgilio classico ma anche quelle più moderne moderni per Poliziano la parafrasi di Dante fa sì che la sua sia una docta di Poliziano docta varietas ti ricorderai c'è una questione legata al rapporto fra Poliziano e i classici e Poliziano indica una strada molto interessante che è quella che ogni classico è degno se è degno di essere imitato in questo va in opposizione ad alcuni suoi contemporanei studiosi contemporanei che invece pensavano che il modello unico dell'antichità classica fosse Cicerone e invece ti ricorderai che proprio scrivendo a Paolo Cortese un altro umanista Poliziano rimedica questa idea piuttosto originale proprio per preservare l'originalità l'autenticità dell'artista contemporaneo se il modello è unico alla fine finiremo per tutti per scrivere la stessa cosa invece i modelli sono plurimi noi possiamo attingere dall'antichità greca l'antichità latina quindi l'antichità classica ma anche dall'antichità ma anche dall'antichità più recente purché sia di alto livello e questa è la posizione vincente che rende Poliziano un artista estremamente prolifico ma anche estremamente interessato a generi letterari molto differenti fra di loro alla prossima grazie a tutti